Fabio Concato, Guido Piano, è un arpeggio dove la mano destra suona sempre il pollice sulla sesta, indice sulla quarta, medio sulla terza e anulare sulla seconda. La prima posizione è un Sol con il Do, è un Sol quattro. Prima Do e poi Sol normale con il Si. Poi è un Re settima con il Fa diese al basso dove il Re si alterna con il Do. Poi è un La minore con il Mi a basso, sesta corda e si alterna il Do con il Si. Ancora il Re settimo. Ancora il Re settimo. Ancora il Re settimo. Grazie a tutti.